Un bel ritrovato a tutti da Targa Auto, io come sempre sono in compagnia di Enzo Saluzzo e Roberto Gobin che rivedo con grande piacere, ciao! Ciao Sonia, ben ritrovati a tutti, noi siamo a Pinerolo, trattiamo auto nuove, auto d'occasione, quindi sicuramente l'auto per voi la troviamo. Ma Targa Auto fa anche tanti servizi? Assolutamente sì, da noi trovate assicurazioni auto in sede, possiamo darvi vettura sostitutiva durante i tagliandi e da noi siete tranquilli, non avete mai sorprese. Bene, mettiamo in moto e partiamo! Iniziamo con questa bellissima Audi Q5 2177 cavalli, 4 ruote motrici a 22.900 euro, a fianco una Mini Cooper 1500 benzina a 17.900 euro, solamente 78.000 chilometri. Vettura a chilometro zero, una tipo 1000 Cross a 24.900 euro, a fianco un'altra vettura a chilometro zero, un MG HS a 25.900 euro. Tutte le nostre vetture possono essere pagate in contanti o finanziate. Vettura d'occasione è questa Renault Megane 1.5 DCI, 110 cavalli a 10.900 euro, troviamo questa bellissima Kia Sportage appartenuta a un unico proprietario, vettura con solamente 42.000 chilometri a 19.900 euro. Clio, nuove impronta consegna, le abbiamo anche qui da targa auto. Passiamo a questa Jeep Renegade, vettura anche qui veramente bella, un 1000 a benzina a 19.700 euro con solamente 50.000 chilometri. A fianco una Suzuki Samurai, anche qui una vettura particolare, 4 ruote motrici a 8.500 euro. Fiat Panda 1200 Longe a 7.900 euro. Qui abbiamo una bellissima 500 cabrio, solamente 84.000 chilometri a 10.900 euro. Saltiamo anche su un'auto a chilometro zero, questa abbiamo una Formentor 2000 TDI a 34.900 euro. Vettura appena arrivata, questa GLA 200 diesel, chilometri 68.000, vettura veramente bella, la proponiamo a 39.700 euro. A fianco una Fiat Punto 3 Porte, questa solamente 24.000 chilometri a 9.500 euro. Qui abbiamo ancora una Panda, anche questa ha un prezzo molto conveniente, 4.800 euro. Qui abbiamo una Jeep Renegade 1.400, limite da 17.800 euro, solamente 50.000 chilometri. Quattro ruote motrici per questa Renegade, 140 cavalli a 25.700 euro, solamente 49.000 chilometri. Per le famiglie che vogliono spazio, una Dacia Logan MPV GPL con soli 74.000 chilometri, nostra richiesta 11.800 euro. Di fianco sempre un mezzo per le famiglie, un Fremont 13.500 è la nostra richiesta e un 2.170 cavalli con 114.000 chilometri. Un 4x4 si avvicina all'inverno perché vuole spendere poco, 4.500 euro, una 16.900 turbodiesel. Un'introvole Panda con 50.000 chilometri, 18.500 euro, ne abbiamo anche una con 30.000 chilometri. Venite a vederla e provarla. Un Kia Sportage, un 1.700 turbodiesel, 10.900 euro del 2014. Stesso anno e la sorella, il Hyundai X35, un 1.799 la nostra richiesta. E' appena arrivata ed è un Captur benzina con 45.000 chilometri, nostra richiesta a 14.800 euro. Siamo in chiusura, cosa vuoi ricordare Roberto? Vi voglio ricordare, come tutte le puntate, che noi trattiamo auto nuove, auto d'occasione, aziendali e quindi venite a Pinerolo a trovarci. Siamo da più di 42 anni sempre al vostro servizio. E sono presenti anche sui social. Potete seguirci su Facebook, su Instagram e da oggi anche su TikTok e vi ricordo che abbiamo un noleggio a breve e lungo termine. Bene, tutto questo e molto di più, naturalmente a Pinerolo da Targa Out. Alla prossima!